Tomazicase dei pomodorini Pachino o Naomi della rucola abbiamo del burro della cipolla del prezzemolo fresco poi abbiamo dei spaghetti a chitarra fatti con farina di semola e farina di grano duro normale acqua e uova adesso andiamo alla preparazione del piatto mettiamo il burro un po' di cipolla un filo d'olio d'oliva poi possiamo iniziare a soffriggere la nostra preparazione quando la cipolla sarà soffritta possiamo mettere le nostre mazzancolle un po' di rucola un po' di pomodorini condiamo con sale e pepe quando sarà soffritto una spruzzatina di vino bianco fermo frizzante dopo che il vino sarà sfumato copriamo il tutto con un fumetto di pesce coperchio e cinque minuti di cottura nel frattempo che la base si cucinerà noi andiamo a depositarne cuocipasta acqua salata ovviamente la nostra pasta ok allora in frattempo adesso abbiamo saltato la nostra pasta per renderla più cremosa adesso andiamo a impiattare e buon appetito un po' di pomeriggio azzzzzzzzzzzzz